Benissimo, ben ritrovati a questa ultima lezione del corso sugli script bash, dopo un lungo percorso siamo giunti finalmente alla lezione numero 17, che precede un video finale nel quale vi presenterò, così commenterò, lo script che ho preparato con il quale ho voluto raggruppare un po' tutto quanto abbiamo imparato durante tutto il corso. Ho voluto includere il più possibile di quelle che io ho chiamato mattoncini per costruire uno script con un certo senso, un certo costrutto, ma questo lo vedremo appunto nel prossimo video conclusivo al di fuori delle lezioni. Per quanto riguarda le lezioni invece abbiamo ancora un ultimo sforzo da fare ed è appunto affrontare questa lezione numero 17, nella quale ci dedichiamo a le diverse modalità per far partire, per eseguire, per far iniziare l'esecuzione dei nostri script. Durante tutto il corso abbiamo visto un modo, tra virgolette, manuale di far partire gli script, cioè richiamandoli direttamente con il comando bash, quindi con il motore dedicato alla interpretazione del nostro script, del codice che noi abbiamo scritto. E giusto per richiamare il tutto, alla mente, per esempio usiamo lo script numero 14 che è quello tutto bello colorato e per richiamarlo cosa abbiamo fatto durante tutto il corso abbiamo usato il comando bash, quindi del motore bash, spazio, il nome del nostro script, enter e lo script parte e funziona e fa il suo lavoro, come vediamo qua. Ecco, tuttavia non è indispensabile, non è obbligatorio, non è l'unica opzione questa per poter usare il nostro script, ma bensì ce ne sono un paio d'altre che sono più, diciamo così, carine, più automatiche, più integrate nel nostro sistema Ubuntu. Una delle quali è rendere eseguibile il nostro script, ecco, concentriamoci sempre su questo script 14 che appunto fa un po' di effetto colorato, abbiamo preso questo, puliamo il terminale, ecco lo script 14, eccolo qui nella mia cartella del corso. E in questo momento non è direttamente eseguibile, infatti se faccio doppio clic, come abbiamo fatto durante tutto il corso, si apre nell'editor di testo, perché appunto ormai sappiamo che il codice di uno script bash non è nient'altro che un file di testo normalissimo, ok, con l'estensione .sh, ma fosse .txt cambierebbe poco, a parte la colorazione della sintassi, l'evidenziazione della sintassi. Quindi come renderlo eseguibile in modo più pratico, più immediato, volendolo usare nella nostra interfaccia grafica? Allora facciamo tasto destro e apriamo le proprietà del nostro file, del nostro script. E ci si aprono ovviamente il dialogo delle proprietà e accediamo alla scheda permessi, eccolo qua. Qui ci sono tutti i permessi su questo file che abbiamo con la nostra user, ma c'è un'opzione qua in fondo, che è proprio quella che ci interessa, è consentire l'esecuzione del file come programma. Questo è il trucco, quindi attiviamo quest'opzione, facciamo chiudi e adesso il nostro script 14, che è sempre riconosciuto come script shell in Nautilus, nel file manager, è diventato eseguibile al doppio clic. Praticamente io faccio doppio clic ed ecco che esce, comunque per sicurezza, esce sempre questa finestra che ti chiede se veramente vogliamo eseguirlo, se vogliamo mostrarlo o eseguirlo in un terminale. Allora, cos'è la differenza? Vabbè, l'annulla è il più banale, rinunciamo, abbiamo sbagliato, rinunciamo. Doppio clic di nuovo, mostra è la stessa cosa che aprirlo nell'editor di testo, quello che abbiamo sempre fatto fino adesso, quindi mostra, semplicemente non lo esegue, ma ce lo apre nell'editor di testo. Ricominciamo, altro doppio clic, esegui, esegue il nostro script però non aprendo un terminale e quindi se io faccio esegui, semplicemente, non vediamo nulla. Lo script è stato eseguito ma non vediamo nulla, questo perché? Perché abbiamo visto che il nostro script necessita di un terminale per mostrarci il suo risultato, ovvero, vedete qua, tutto l'output, il risultato dello script in realtà è a terminale, è previsto con i vari comandi echo di essere visualizzato in un terminale, quindi se facciamo esegui, il pulsante esegui implica che si tratti di uno script che non necessita di un terminale o non necessariamente di un terminale per funzionare, quindi deve mostrare qualcosa al di fuori del terminale o eseguire in operazione o fare apparire altre finestre o qualcosa del genere, quindi esegui, in realtà se lo facciamo quando tutto lo script è basato sul terminale, in realtà dietro viene eseguito ma non vediamo nulla. Ecco perché c'è l'ulteriore opzione esegui nel terminale. Faccio eseguire nel terminale, si apre il terminale però ecco si è chiuso subito perché lo script, in questo caso l'esempio 14, parte, fa tutti i suoi echo colorati e poi finisce, quindi si chiude immediatamente il terminale. Ecco che qui occorre l'accortezza, volendo usare questo script in questo modo naturalmente, quindi facciamo doppio clic, mostra, quindi correggiamo un attimo il nostro script, possiamo per esempio introdurre un comando di pausa in fondo in modo che si fermi l'esecuzione prima di essere terminata. E quindi cosa succede a questo punto? Noi salviamo il nostro script, torniamo qui, facciamo doppio clic, esegui nel terminale ed ecco cosa succede, che il comando read impedisce allo script di finire immediatamente, quindi abbiamo un terminale aperto con lo script ancora in esecuzione perché c'è il comando di pausa, il read che ce lo blocca, quindi al prossimo enter il terminale si chiude perché è finito lo script. Ecco, quindi una prima possibilità per integrare questo script meglio nell'interfaccia grafica Unity che usiamo tutti i giorni, ovvero laddove noi abbiamo il nostro script facciamo semplicemente doppio clic, scegliamo la modalità di eseguirlo o semplicemente esegui, eseguire il terminale e avremmo così un primo risultato più immediato che non, dover aprire il terminale, posizionarci dove lo script è archiviato sul nostro disco con il bash davanti e enter eccetera, come abbiamo sempre fatto finora, quindi è più immediato, una volta che, ripeto, abbiamo dato il permesso di essere eseguito, questo file diventa immediatamente eseguibile. E questa è una possibilità. La possibilità per la quale ho creato questa, ho previsto questa lezione 17 in realtà non era questa che è una possibilità intermedia, ma bensì quella di creare un vero e proprio lanciatore del nostro script. Il lanciatore è un file particolare con estensione .desktop, che in ambiente GNOME vuol dire proprio le icone che permettono di far partire i programmi, che sono poi anche quelle che vediamo qui per esempio sulla sinistra nel lanciatore dei Unity, ecco le icone qui del browser di Nautilus, del programma delle note eccetera eccetera, tutti questi sono lanciatori in realtà, dietro queste icone ci stanno dei file .desktop che lanciano il programma tal dei tali. E questo è ancora più pratico, perché? Perché lo vediamo fra un attimo. Allora, come si crea un lanciatore? Allora, niente di più facile che seguire un modello di un lanciatore già esistente. Allora, mettiamo icone anche questo terminale, va? Allora, un modello di un lanciatore, io ve l'ho messo a disposizione fra dentro nel vostro archivio compresso che vi ho dato nel primo video di questo corso, ve l'ho già messo a disposizione, lo sapete, lì dentro c'è un modello di un lanciatore che è questo, .desktop. Vedete? .desktop. Ecco, aprendo questo, questo file, che essendo un file un po' particolare, diciamo che col doppio clic per non far partire qualcosa che non si vuole, è meglio trascinarlo nell'editor, adesso qui l'ho già aperto, quindi si apre l'editor di testo, e che sia reso eseguibile o meno questo file .desktop, è meglio trascinarlo nell'editor così, non c'è dubbio perché il doppio clic non è detto che faccia aprire l'editor, magari fa partire un programma che non si vuole, comunque, questo è il modello di lanciatore. Voi l'avete a disposizione, lo aprite nel vostro editor di testo, e vedete che ci sono delle parole, dei parametri preconfezionati già pronti, che io ho compilato con un esempio, naturalmente con il nostro esempio, questi qui in verde, ecco, vedete che, tra l'altro, l'editor di testo, gedit, opportunamente riconosce l'estensione .desktop, qui in fondo, nella barra di stato dell'editor, qui in fondo, vedete .desktop, che è un tipo di file che anche lui ha la sua sintassi evidenziata, colorata, vedete, è un po' come l'SH, che è per la shell, anche i .desktop hanno la loro evidenziazione di sintassi, quindi c'è un paragrafo desktop entry, che è fisso, marroncino, e poi in verde i vari parametri del lanciatore, che adesso li vediamo ad uno ad uno. Allora, il lanciatore, anche lui, quando sarà pronto, necessiterà, per poter funzionare, di essere messo, impostato come eseguibile, quindi bisognerà attivare questa opzione nei permessi delle proprietà del file desktop. Esattamente come abbiamo fatto con il file numero 14 dello script bash, per mostrarvi il doppio clic, la partenza a doppio clic, si deve fare anche con il lanciatore. Ecco, appena il lanciatore, appunto, ho detto che è un file particolare. Ecco, voi vedete in questo momento come è scritto il lanciatore, il nome, punto desktop. Appena io attivo l'opzione di poter essere eseguito, vedete cosa succede? Il lanciatore cambia nome, e lo vedremo fra poco perché, come fa a cambiare nome, perché il lanciatore interpreta i suoi parametri che gli abbiamo messo qui in verde, qua dietro nel file. E c'è anche la possibilità di legare un'icona al lanciatore, proprio l'icona del programma, che è quella che vediamo qui, per esempio. Vedete qui i vari programmi lanciati, aperti o meno, hanno la loro icona. Quell'icona qui è quella che è legata nel lanciatore, così come io ho legato l'icona di Ubuntu, la vedete qui, eccola qui, l'icona di Ubuntu, ho scelto di legare questa. L'icona di Ubuntu è un nome diverso in realtà dal file punto desktop, perché gli si può dare un'etichetta diversa. Se io tolgo di nuovo l'opzione di poter essere eseguito, vedete che torna a chiamarsi come il file originale, percorso scriptbash.desktop. Quindi diciamo così come regola di lavoro, si potrebbe dire tenetelo non eseguibile fin quando non è pronto il vostro file qua dietro, fin quando non l'avete parametrizzato come si deve qua dietro. Una volta che l'avete fatto, che è pronto, potete attivarlo come eseguibile, doppio clic e lo potete provare. Adesso fra un attimo lo facciamo. Allora, flag d'esecuzione ve l'ho spiegato, quindi il suo scopo è rendere attivo questo desktop, perché se faccio doppio clic così adesso in realtà non fa partire il nostro script, ma solo quando è eseguibile. Poi proprietà version, se si desidera si può indicare una versione dello script, vabbè io ve l'ho messo, è opzionale, non è obbligatorio per far funzionare il tutto, ho messo versione 1, va bene, versione del programma o del nostro script, opzionale. Poi proprietà name, dare il nome del programma che apparirà sia nel file manager sia nella dash di Unity. Name, nel mio caso itch, è la versione nella lingua specifica del vostro sistema. Ecco, name è quel nome, vedete, corso script bash, che appare appena diventa eseguibile il file desktop, è quello che abbiamo visto prima, lo faccio ancora velocemente. Ecco, vedete, corso script bash in realtà è questo name che prende il sopravvento appena diventa eseguibile il file .desk. Quindi il file .desk può chiamarsi Pippo Pluto Paperino e poi potete mettere il nome effettivo che volete fare apparire dappertutto nel vostro sistema Ubuntu, dappertutto vi apparirà in realtà questo nome quando è attivato. Ecco, ci sono due name, name con nulla e name con tra parentesi quadre la lingua di sistema. Se, diciamo che se il vostro sistema Ubuntu lavora in una certa lingua e quella lingua non è riscontrata, non è specificata nel file .desk, allora prende quello name senza lingua specificata, quello generico. Diciamo che il nome del programma, name uguale nome programma, è quello che vale sempre come ultima soluzione, qualora non ci sia un parametro name con la vostra lingua di sistema specificata. Allora, nel mio caso è italiano svizzera, nel vostro caso, che so, potrebbe essere italiano it, maiuscolo per Italia o che ne so io, die per tedesco eccetera eccetera, insomma n, en, us inglese americano eccetera eccetera, insomma ci sono queste codifiche particolari delle lingue. Non si è nemmeno obbligati a mettere questo, basterebbe anche quello generico perché noi se usiamo il nostro skill sul nostro sistema sappiamo cos'è, è abbastanza il name. Se vogliamo proprio essere raffinati ci mettiamo magari anche nelle varie lingue o se magari il nostro script è destinato a essere distribuito, possiamo anche aggiungere altri name, non è limitato a due voci di name, posso anche continuare a aggiungere name in altre lingue, francese, tedesco, inglese eccetera. Io ne ho messo uno per mostrarvi com'è la sintassi, ecco. E quindi se voi aggiungete, più ne aggiungete, più lingue sono riconosciute dal vostro file .desktop e se consegnate quel file a un tedesco, un francese, un inglese, automaticamente gli verrebbe esposto il nome del programma nella sua lingua, ecco e questo è lo scopo. Diciamo che quello obbligatorio, se vogliamo così, è quello generico, quello che dovrebbe valere per tutti, che solitamente negli altri programmi è quello in inglese e poi c'è la voce laddove è stato tradotto nella lingua specifica. Ecco. Proprietà terminal, ecco questo è importante, che è quella praticamente che distingue il comportamento del lanciatore per lo script, praticamente quando abbiamo fatto doppio clic sullo script 14 abbiamo visto esegui, che vuol dire senza terminale, oppure esegui nel terminale. Ecco, questa è la stessa voce corrispondente, quindi il terminal true, quindi vero in inglese, vuol dire usa il terminale, sarebbe esegui nel terminale. Se io scrivessi false, cioè false, falso in inglese, qui basta sostituire true con false, vuol dire che non apre un terminale quando fa partire lo script, perché non ne ha bisogno. Poi exec, eccolo qua, exec naturalmente è importante, exec vuol dire dare tutto il percorso e lo script che deve essere eseguito ovviamente. Ovvio, qui ho già impostato come esempio il corso script bash finale, cioè lo script che raggruppa un po' tutto, quello che presenterò, che commenteremo nel prossimo video conclusivo, è proprio lo script bash finale. Però nulla toglie che possiamo mettere anche il nostro script parte 14, ecco, possiamo anche farlo, perché no? Potrei metterlo, parte 14, ecco qua, così l'ho scritto giusto, ci mettiamo il punto sh, salviamo, così poi lo proveremo, poi il commento, ecco c'è il parametro commento nel quale appunto si può inserire un commento per spiegare brevemente cosa fa, perché no? Cosa fa il vostro script, il programma, eccetera, eccetera. Anche il commento, come potete vedere, può essere messo in più lingue, quindi quello generico e quello della vostra lingua del sistema o di altre lingue le quali prevedete di integrare o di poter eseguire il vostro script. Ecco, il commento appare nella proprietà commento che vedremo fra un attimo, ma prima raggruppiamo le due voci, c'è anche il generic name, ecco, il generic name anche lui parallelamente al commento può essere impostato in più lingue sempre, è una stringa nella quale si descrive che cosa fa lo script, cioè sembra così un po' una cosa in doppio, diciamo subito che entrambi prima di tutto sono opzionali, non siamo obbligati a metterli, però se vogliamo completare per bene il nostro lanciatore lo mettiamo. Quindi il generic name è una descrizione che si può mettere, quindi qui si descrive cos'è o cosa fa lo script, è un commento, non so, fate voi, fate un commento lo script, tipo questo script è eccezionale, qui esegue questo e questa è quell'operazione, che ne so, ecco, comunque avete due campi disponibili per dare delle indicazioni a chi lo usa o comunque descrivere qualcosa del vostro script. Queste due proprietà, questi due parametri vanno a finire, ve lo mostro, nelle proprietà, ecco qua che appaiono nelle proprietà di un file desktop, punto desktop è un po' particolare, quindi le proprietà qui nella scheda generale si adeguano a un file tipo desktop e vedete che appaiono questi campi, vediamo un po'. Vediamo di, magari facciamo così, qui facciamo così, così lo vediamo benino, per benino, allora, il nome del file non ci interessa, vedete che il generic name ho detto che è la descrizione, il generic name, vedete tra parentesi, descrizione, esegue lo script, bla 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 bla, vedete che nel campo descrizione, in effetti ci ritroviamo, descrizione, esegue, bla 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 bla, il campo commento, vedete tra parentesi, commento, e qui ci mostra commento, eccetera, eccetera, quindi vedete il comment va nel commento, come ci si può aspettare, e il generic name, che non si chiama description, vabbè, chi ha deciso di creare questi tipi di file ha detto che deve chiamarsi generic name, va a finire sotto la descrizione. La cosa interessante, che volevo farvi notare a proposito delle lingue, già che siamo sul caso pratico, vedete che io, usando il sistema Ubuntu, impostato con la lingua italiano-svizzera, locale, il mio locale, localizzazione linguistica italiano-svizzera, vedete che tra parentesi, descrizione tra parentesi, tra parentesi, commento, parentesi, mi appare, viene presa come la lingua valida da visualizzare, e non il commento generico senza lingua impostata, e non la descrizione generica senza lingua impostata, perché qui non c'è tra parentesi commento, e qui non c'è tra parentesi descrizione, quindi vedete il meccanismo delle lingue, come funziona per i file desktop. Non avessi specificato la mia lingua specifica, avrebbe preso quello generico, e quindi senza descrizione e commento fra parentesi. Invece vedete che, aprendo le proprietà del file, mi mostra quelle della mia lingua. Ecco, se qui ci fosse la stessa stringa in francese o in tedesco, e un francese o in tedesco aprissero le proprietà, gli apparirebbe la stringa specifica, vedete? La differenza tra le due, e la differenza qua, cioè, e qui mostra quello della mia lingua, del mio sistema. Niente male, eh? Ok, chiudiamo le proprietà, e andiamo avanti. Così. Anche l'icona in sé, credo non sia obbligatoria, avrebbe assegnato un'icona generica, però io, per farlo carino, ho voluto assegnargli comunque un'icona, avete visto l'icona di Ubuntu, si trova, è un'icona stock icon, quindi generica di quelle di sistema, già presenti nell'installazione del sistema, voce icon, e appunto, quando si attiva il lanciatore, appare questa icona. Ecco, tutto qua. Quindi potete anche, naturalmente, seguire sempre il mio testo accompagnatorio, qua, e capite che, non è niente di complicato, sono dei parametri che poi, una volta impostati, sono a posto così. Ecco, adesso abbiamo impostato il lanciatore così, possiamo anche provarlo, quindi lo rendiamo eseguibile. Appare la nostra bella icona, se facciamo doppio clic, vediamo cosa succede, ecco qua, vedete? Doppio clic, è partito il nostro terminale, perché gli abbiamo detto vero il terminale, quindi parte a terminale, e poi si fermi, perché abbiamo messo la pausa appositamente, faccio enter, e si chiude. Diciamo che il lanciatore è un passo più comodo del semplicemente rendere eseguibile lo script, perché rendere eseguibile lo script ha questa finestra, appare sempre questa finestra intermedia, mentre questo è diretto come un vero programma, faccio doppio clic e parte direttamente, non mi chiede più nulla perché sa già cosa fare, sa di farlo partire a terminale e che voglio farlo partire, quindi è più immediato, è proprio la soluzione più raffinata, finale, per far partire il nostro script. Non è finita qui, ultimo passo, non è necessario che io debba posizionarmi in una cartella particolare per far partire il lanciatore, che adesso lo faccio tornare non eseguibile per tornare alle origini, ecco qua, così. Quindi il lanciatore si può archiviare in questa cartella, che tutti noi nella nostra home abbiamo, è una cartella nascosta, vedete, home è la nostra home, puntino local, quindi è una cartella nascosta nella nostra home, share application, ecco, a questo percorso, che voi avete naturalmente nella documentazione, potete mettere i lanciatori che vi interessano avere subito sotto mano nella dash di Unity, quindi vedete che io ho già messo il lanciatore del nostro corso finale, quindi dello script finale, qui l'ho già preparato precedentemente, che parte in modalità grafica, quindi non ha bisogno del terminale, ecco, che quindi dentro questo lanciatore ci sarà terminal false, perché non ha bisogno del terminale, ecco, questo lanciatore messo in questa cartella particolare, solo in questa cartella particolare, permette di essere recensito dal motore della dash, quindi se io apro la dash nell'applicazione, vedete che ho già cercato, e cercate come qualsiasi altro applicativo, cercate corso, per esempio, perché sapete che si chiama corso o bash, vedete che viene cercato nel sistema Ubuntu Unity, come qualsiasi altro programma, eccolo qua con la sua bella icona, corso script bash GUI, faccio enter o faccio clic sull'icona, e parte il nostro script, come se fosse esattamente un qualsiasi programma installato nel nostro sistema, in questo caso sembra proprio un vero programma, perché parte la versione con interfaccia grafica dello script, finale, ecco, faccio annulla, si esce e viene fuori anche la notifica, come abbiamo imparato nelle varie lezioni. Ecco, finito, direi che abbiamo finito finalmente, è stata lunga, è stata dura anche prepararlo, questo corso, come credo sia stato duro anche per voi, se mai ci siete arrivati in fondo, se avete resistito, complimenti a voi perché sarà dura anche seguirlo questo corso. Ecco, come ho detto nel primissimo video, questo è un canale che è dedicato più ai non esperti che non agli esperti, più ai principianti che agli specialisti, pur non escludendoli gli specialisti, e quindi non so se con un'iniziativa come questa, di un corso un po' specializzato e specialistico come questo, abbia fatto una cosa buona e giusta o meno, questo me lo direte voi con le vostre reazioni, nei commenti o scrivendo nella posta del canale YouTube, fate voi, e quindi saprò anche se ho esagerato raccontando qualcosa di troppo specializzato, troppo complicato o meno, o se magari può essere una buona idea in futuro, chissà, ideare qualche altra serie di questo tipo. Ecco, comunque, come sempre, anche se sono stato utile ad uno solo di voi, ritengo di aver raggiunto lo scopo per me, comunque anche se è faticoso preparare questi video, è impegnativo, è comunque un piacere, se no non lo farei, e vi ringrazio comunque già sin d'ora per la vostra attenzione e per il vostro interesse, e per quanti siete sempre che siete iscritti a questo canale, che seguite con interesse quanto viene proposto. Ultima nota, come ho già detto all'inizio del video, c'è ancora un video di fuori delle lezioni nel quale vorrei brevemente, così succintamente, commentare lo script finale, cioè quello che io ho composto con le varie parti che abbiamo imparato nelle varie lezioni. Non ho proprio, non sono riuscito proprio a usare tutto, tutto, tutto quanto abbiamo visto nelle 17 lezioni, però ho cercato, insomma, di formulare questo script in modo da usare il più possibile, anche perché vi resta come modello, naturalmente, così come tutti gli iscritti delle varie lezioni, anche quello finale, che si chiama proprio corso script bash finale, lo vedete qui, è uno scritto un po' più esteso, un po' più corposo, e che può restarvi come modello e come spunto. Ecco, con questo io concludo questa mia prima serie di studio, diciamo così, il primo tentativo. Vi ringrazio tantissimo per il vostro interesse, che spero ci sia naturalmente, non posso saperlo a priori. Vi saluto, un saluto, ciao ciao e alla prossima!